Oggi inizia una nuova era per il Sudafrica. Ispirato a una storia vera. Mandela assume l'incarico a Pretoria. Il nuovo capolavoro di Clint Eastwood. Questa nazione ha fame di grandezza. Ci serve il vostro aiuto. Allora, chi voleva? Vuole che vinciamo la Coppa del Mundo. Era solo un gioco, ma cambiò il mondo. Morgan Freeman. Questo è il momento di costruire la nostra nazione. Matt Damon. È il nostro destino! Un film di Clint Eastwood. Invictus. Da febbraio al cinema. Grazie a tutti.